Allora eccoci di nuovo a Classic Garage, stiamo parlando con Giuliano Mazzolini prima dell'interruzione pubblicitaria a proposito di questa straordinaria Mercedes 190 SL anno del signore 1961. Vuoi raccontarci un po' la storia, dove l'hai trovata, se hai fatto un restauro, cosa è successo con quest'automobile? Diciamo innamorato in foto, comprata e trovata così già restaurata. Acquistata all'estero? No, no, in Italia. Quindi già trovata in queste condizioni? In queste condizioni, sì, mantenuta anche perché. Era stato oggetto di restauro precedente? Sì, credo che sia stata restaurata circa otto anni fa. Quindi un'automobile straordinaria che cercavi proprio questa 190? Questa qui, sì, nera, bella e rossa. Addirittura anche l'accostamento cromatico? Eh sì. Senti, adesso poi racconteremo un po' la storia brevemente di questo modello. Intanto raccontaci com'è guidare un'automobile che è diventata un'icona del bel vivere. Sì. È facile? È una vettura che si guida? No, molto facile, è abbastanza maneggevole, perfetta. Su strada ancora è perfetta. Questa di cilindrata quant'è? È 2.000 di cilindrata, 4 cilindri, 4 carburatori, consumicchia un pochino, però... Vogliamo ricordare che però la potenza era contenuta a 105 cavalli. 105 cavalli. Quindi, diciamo, fu una scelta della Mercedes di non fare un'automobile troppo sportiva. Esagerare. Anche 105 cavalli, negli anni, fine anni 50, erano comunque una... Giuseppe, una buona dotazione. Sicuramente era, rispetto ad oggi, distinto, dici come, solo 105 cavalli, però, portata agli anni 61, già era una potenza che consentiva. Che velocità raggiunge tutt'oggi la 190? Beh, tutt'oggi io l'ho portata questa mattina, sinceramente, a 105 miglia. 105 miglia. Vabbè, quindi diciamo 100... Ovviamente in autostrada. Insomma, 105 miglia stiamo sui 130, 140. Sì, consideriamo, penso, che il discorso che, appunto, essendo una Spyder, poi la velocità non è che può essere così eccessiva, perché la Spyder, comunque, va vissuta, insomma... L'altra volta ci hai detto che quando hai acquistato la tua Jaguar Ray Roadster sei arrivato a pallettone sull'autostrada del sole... E c'era uno con l'Audi che mi faceva i fari, e tu... Io mo' ti levo la sede con il prosciutto, e c'è rimasto male. Quindi proprio stiamo dando un messaggio devastante ai miei amici a casa. No, non è così che si guida, non è così che si guidano gli automobili d'epoca, le Jaguar Ray in particolare, quindi non vi attaccate, amici possessori di Jaguar Ray Roadster, non vi attaccate con le Audi, insomma, per carità. Diamo un esempio anche di rispettare la meccanica. Ma lui, da questo punto di vista, lui è pessimo sotto ogni punto di vista. Veramente, tu rappresenti, proprio... Fai degli affari... Enormi. Possiamo dire che lui minaccia i venditori anche a livello fisico, e quindi poi ottiene dei prezzi. Con artifici e raggiri. Oltre a ricorrere all'artificio e ai raggiri, ma io credo che quando c'è la passione, veramente vedo delle cose in questo mondo, il quale faccio anche parte, sia per la passione che proprio per lo spirito. Pur di portarsi a casa all'oggetto del proprio desiderio, vedi insospettabili professionisti capaci di qualunque raggiri, di qualunque... C'è convenzione. Ma non di incapaci. Però bisogna anche dire che io, ho detto prima, sfatiamo questo mito dell'auto nel fienile, perché ormai siete andati in qualche cascinale di auto nei fienili, non ce ne sono più, e se c'è qualche contadino, bontassua, che ancora conserva l'auto del nonno... Tira fuori il computer... Va sul computer, va a vedere le quotazioni, vi dice tutto, vi fa la perizia... Insomma, non è più come una volta, Sandro, quando si andava veramente a cercare... Probabilmente in qualche fienile di Cuba, adesso che hanno liberalizzato un po', dovremmo andare in massa a fare una spedizione e portarci qua, perché lì girano ancora macchine degli anni 50, dovremmo fare... Eh, ma colciate. Stai dicendo riguardo a trovare le automobili? No, sul fatto di ristrutturare le autovetture, sono due ristrutturazioni diverse. Tra questa 190? Certo, certo, perché qui ricambi, accessori, cioè qui si trovano ancora i ricambi. Anche perché Mercedes si ricostruisce? Sì, qua andiamo proprio sull'artigianalità. Sulla 509? Sì, qui viene ricostruito il pezzo, perché non si trovano, no? Non si trovano. Non si trovano, assolutamente. Quindi diciamo che... Lì hanno fatto delle fusioni... Qui c'è il contadino, come dicevi, che si mette lì, va sul computer e ti dà la quotazione. Qui non credo che ci sia persone che possano... Cioè il contadino che abbia una macchina così, se trova qualcuno che se la vuole prendere... Noi abbiamo comprato anche un tornio nella speranza di trovare chi poi lo fa, lo lavora. Sì, infatti in officina abbiamo comprato compino da una ditta che chiudeva, tutta attrezzatura degli anni 60. C'era il tornio, trova una colonna... Per ricostruire se serve qualche pezzo. Per ricostruire qualche pezzo, che potrà sicuramente servire. Perché ti serve, perché qui ti serve una persona che ha passione, che ha l'esperienza, ma ora ho la passione per farlo. Perché qui ti metti a fare un bullone, ti metti a fare ricostruire un telaio di un sedile, ti passano giornali. Però tecnicamente, diciamo, su una vettura degli anni 30 o degli anni 20 ci si può operare anche senza avere un'attrezzatura particolare, perché si tratta comunque di mezzi semplici come struttura. Un restauro di una vettura degli anni 50-60 può essere molto più complicato, in termini anche di costo. Almeno il mercato ci sembra dirci questo. Perché adesso non otterremo mai da Giuliano l'esatta cifra che qui ha pagato questo splendido esemplare. Però possiamo dire che oggi, guardando le riviste specializzate, guardando i siti specializzati in Europa e in America, una 190 SL in perfette condizioni si può vendere anche a 70-80 mila euro. Anche un po' di più. E anche di più. Questa probabilmente è anche di più come quotazione, tenuta in questo modo sicuramente. Quindi arriviamo quasi all'ambire i 100 mila euro di valore. Probabilmente sì. Quotazioni importanti. Poi certo, da restauro si trovano anche a 25 mila euro. Però quanto c'è da spendere poi? Bisogna fare attenzione quando si compra la macchina da restauro però. Tanti leggono il prezzo. Sì, sì. Io parlo per esperienza con una Porsche, comprata da un privato, pagata bene perché stava in queste condizioni. No, uno Spister. Stava in queste condizioni, metallizzata, bellissima macchina, a vederla era stupenda. Però, cominciando a smontarlo perché c'era da fare la parte sopra di un cruscotto, quindi abbiamo dovuto togliere il vetro davanti. Si è cominciato a vedere lo stucco. La macchina veniva dall'America, immagino. La macchina veniva dall'America. Lo stucco è considerato proprio la soluzione di tutti i mali. Attenzione, però la macchina è stata comprata in America ma è stata ristrutturata qua in Italia. Ah, quindi è stucco italiano. Quindi è stucco italiano. Che già è meglio. Quindi può essere una brutta sorpresa. Ha cominciato a vedere dove arrivava questo stucco. Dove arrivava questo stucco. E io magari nelle prossime puntate vi farò vedere questa macchina. Dove arrivava questo stucco? Dove arrivava. Vi farò vedere dove arrivava. Perché un po' di stucco si usa ancora in carrozzeria. Sì, ma dove c'è la magagna, la sola non si vede. Ci sono dei bravi. Quindi proprio addirittura ricostruito con lo stucco parte totalmente da cancro. Ricostruita ma ribattuto, cioè lavorato da un... Cioè io ho detto bisogna fare anche i complimenti a questo carrozziere che si è messo qui a ribattere il telaio, la carrozzeria. E poi stuccata, riverniciata. Era perfetta. Sanno, ti è capitata nella tua carriera di appassionato così trovare qualche fregatura? Possiamo dire, qualche auto che ti sembrava perfetta. Confessa, confessa. Confessa ce n'è una. Perché siamo tutti ancora arrabbiati con te per l'affare che hai fatto. Perché poi diciamolo amici, c'è invidia tra collezionista e collezionista. E' inutile che sembra questo... No, io l'invidia è una cosa che non conosco. Ma sì, questo cameratismo. Che bello, hai comprato un 190 e un 30 mila euro. Bravo, sono contento. Ma davvero, perfetta. Guarda, che fortuna. Che sei proprio... No, ti rode da morire se quello lì ha comprato un 30 mila euro, un'auto perfetta e tu l'hai pagata 100. Cioè, quindi non ci rascondiamo questo aspetto. No, però io ho trovato, ecco, la Lancia Ardea che sta di là. E' un'auto vettura che quando l'ho presa pensavo che stava benino. Io poi avevo avuto la sorpresa che mezza macchina non c'era proprio sotto. Era completamente... Ma perché non alzi sul ponte quando lo prendiamo? E all'epoca non ce l'avevi quel ponte. Vabbè, ma... Non ce l'avevi il ponte, ma un cric. Insomma, amici di altro si guardano sotto. No, ma era stata ben camuffata comunque. Sì, ci sono dei camuffamenti. C'è qualche consiglio che possiamo dare a casa? Almeno le cose di base, prima di staccare l'assegno. Devi andare con delle persone esperte. Non fare da te, non guardare. Infatti il cliente dopo... Bisogna aprire, secondo me, molte volte, ecco, aprire, ad esempio dentro un trucco, aprire i pannelli dei sportelli, andare dentro i sportelli, perché magari fuori la macchina è verniciata bene, poi dentro è completamente viena di luce. Anche l'interno è il tappo benzina? Sì, altro particolare. No, ci sono tanti piccoli accorgimenti. No, ma poi guardate sotto, guardate, so, chiedete di alzare la vettura su un ponte, mettetela su un cavallino. E martellate. Eh? E martellate. Beh, sì. Sotto, dai colpi. Ah, per favore di martellare la vettura davanti al venditore, no. No, comunque controllare i fondi, perché poi ecco sono soggette a... Sono i primi punti dove la macchina ha problemi. Beh, diciamo che i fondi sono anche i più facili da... Mi smentisci, sono anche i più facili da rifare, però, perché non ci sono problemi, no? Esattamente. Il problema è quando lo stucco sta sulla carrozzeria. Sulla carrozzeria. Lì non vedi e rimani... Allora, torniamo per un attimo a questa 190 SL, perché abbiamo da dire ancora qualche cosa. È un esemplare, abbiamo detto, splendido. Giuseppe, aiutami a collocarla anche storicamente. Questa, non tutti lo sanno, ma in realtà l'artefice di questa straordinaria spider tedesca degli anni, a cavallo tra gli anni 50 e 60, in realtà è stato un americano, perché è l'importatore americano della Mercedes di quegli anni, Max Hoffman, che era anche quello che aveva con la sua insistenza convinto i tedeschi a fare la famosa Ali di Gabbiano, che fu proprio ispirata dalla sua insistenza e ovviamente vendutissima negli Stati Uniti. Quindi, lo stesso grande successo della 300 SL Ali di Gabbiano, vettura nell'Olimpo delle automobili più belle mai costruite e più costose oggi sul mercato, ha convinto proprio Max Hoffman a dire, vabbè, facciamone anche una un po' più accessibile, perché comunque la 300 SL era una vettura che aveva un costo stellare negli anni 50. E da quell'esperienza ha convinto i tedeschi, che erano un po' recalcitranti, un po' troppo rigidi, a fare una copia, vogliamo dire così, passateci il termine, con lo stesso stile della 300 SL, però su un pianale, su una struttura che era quella di una vettura che era la 180, quindi una vettura, tutto sommato, economica rispetto alla 300, ed è nata, ha venuto la 190 SL. Anche di gestione. Hoffman si impegnò, pensate, ad acquistarne personalmente per l'America 200 al mese, quindi lui si era impegnato con i tedeschi, se la costruite io 200 le prendo subito. E infatti la sua insistenza poi fu premiata dalla Germania, costruirono questa 190 SL, che riprendeva la meccanica, così abbiamo visto, non troppo potente, non troppo sofisticata, e il pianale della Berlina 180, quindi una vettura, tutto sommato, accessibile. Infatti anche come gestione era una macchina assolutamente accessibile, è vero che tu hai detto una copia, in realtà non è una copia, ma ricorda, ispirata, quindi ricorda, se guardi il frontale, eccetera, ricorda la 300 SL, che era un gioiello allora, oggi è nell'Olimpo delle macchine, le quotazioni del 300 SL sono folli, dai 3,4, 500, 600 mila euro, a seconda delle versioni, veramente stiamo parlando di automobili alla portata ormai di pochissimi. Spettacolare all'epoca, spettacolare oggi, macchina bellissima, questa è una macchina che ha acquistato nel tempo, anche questa, forse quando è nata, era una macchina che non ha riscosso il successo che ha oggi questa macchina, perché la linea è una linea attualissima, è una Spider ambita quanto il 300 SL in realtà, sta conquistando tutti i mercati del settore. come gestione, hai detto giustamente, hai il motore della 180 Berlina, che era una macchina diffusissima, e infatti credo che come manutenzione, come consumi, forse come consumi, se cominci a spingere, come dicevi giustamente tu, magari rispetto alle macchine di oggi, stiamo su un altro livello, però indubbiamente è una macchina che potresti usare anche tutti i giorni questa. Giuliano, un difetto, i pregi li vediamo, la linea straordinaria, la meccanica robustissima, una sicura rivalutazione, c'è un difetto che guidandola poi, vivendo un po' insieme a questa vettura viene fuori? C'è troppa aria. No, sinceramente no, con tutto ciò che è un cabrio, aria non ce n'è. C'era anche la versione con l'artop. Di meccanica? Difetti, difetti, no. È un problema con la carburazione. Di fuori, vabbè, al di fuori di un po' di carburazione, oggi non ci sono gli attrezzi, perlomeno noi non ce l'abbiamo specifici per... Questo motore era tra l'altro una caratteristica che era montato su tamponi in gomma, questo consentiva di avere un comfort veramente superiore rispetto alla concorrenza, però limitava un po' le prestazioni perché non si poteva metterci troppi cavalli qua alla fine, insomma, quindi è una vettura tranquilla, tutto questo motore. Molto tranquilla. Sandro, tu non hai nessuno 190 SL? No, però la macchina mi piace moltissimo. Ti è sempre piaciuta? Allora è brutto segnale, se gli piace moltissimo è brutto segnale. No, infatti penso che tra questa e il Jaguarè sono i tre spazi. Il Jaguarè ha il vantaggio delle prestazioni. Beh, sì. Che il 190 non ha perché è proprio tranquilla. Però sono due linee molto belle. Anche Enzo Ferrari possedeva un Jaguarè. Infatti la definì una delle più belle del mondo. La macchina, una delle più belle del mondo. Ne possedeva una, sì. Però anche questa è molto molto bella. Infatti, ti metto con l'occhio un po' lucido. Questo non è un bel segnale. Però con questa, Carlo, però con questa vai in giro normalmente come se nulla fosse. Con il Jaguarè forse un po' meno. Per questo non la uso da due anni. Eh, penso di sì. Inizialmente riesce a usarla un po' la macchina? Sì. O sei di quelli che, come dire, praticano bene, ralzano male, la tengono sempre in garage? Perché poi noi diciamo le auto vanno usate. Vanno usate, vanno tenute in attività. È un crimine tenere un'auto rinchiusa in un giorno. Riesce però a farci un po' di chilometri l'anno, insomma, raduni, qualche cita, tenerla viva, condividerla anche perché l'auto, io penso che l'auto d'epoca sia un po' un patrimonio dell'umanità, no? Quindi noi in realtà, se ci pensate bene, la tramandiamo, la conserviamo, poi la passeremo a qualcuno. Purtroppo la vita dell'uomo è fatta di questa. Basta pensare che alcuni modelli... Pensa a questa Fiat 509 che è arrivata ai giorni nostri restaurata, amata, custodita, riportata a vita. Dal 28 a oggi quanti proprietari, quanta passione ha portato con se... L'auto di questo livello non è un semplice possessore di auto antiche, ma un testimone del passato. Questo è un fatto molto importante. Si tramandano, poi dopo i cent'anni anche il fortunato possessore di queste auto le lascerà a qualcun altro. Quindi c'è un... ma ci ha comunque lasciato del suo la propria vita, la propria passione, il proprio restauro. Questo è un aspetto che sulle automobili è particolare, succede così con tutti gli oggetti della vita umana. Però sull'automobile veramente c'è un legame fortissimo. Ma di fatti Carlo, scusa se ti interrompo, questo è importante perché è un messaggio appunto da portare avanti. Perché un ragazzo, un giovane di oggi vede un'autovettura moderna, non si rende conto da dove siamo partiti, che cosa è l'evoluzione dei motori, della carrozzeria, di tutte queste cose qua. Quindi secondo me è da portare avanti appunto un messaggio ai giovani. Io di fatti porterei anche questi programmi qui, li porterei nelle scuole proprio perché i giovani... Ma io quando tu esci con le vetture, spesso mi racconti che nelle scuole, negli ospedali, dove voi fate anche, l'all cars fa anche delle attività, diciamo così, di beneficenza. L'auto d'epoca è veramente un bel testimone. Sì, sono tutti i ragazzini che ti vanno subito attorno alla macchina perché la curiosità è tanta. La simpatia anche che suscitano automobili d'epoca. Però la percezione dell'oggetto che non appartiene poi soltanto a chi lo guida, ma che in qualche maniera poi appartiene a tutta la collettività perché viene tramandato. Torniamo al discorso iniziale, al tuo vissuto, al vissuto della gente che le ha viste veramente girare per le strade, quelle macchine che veramente ti dà l'emozione. Poi per non trascurare l'aspetto proprio dell'opera, dell'opera che in qualche caso è un'opera d'arte. Non per niente alcuni di questi modelli sono al MoMA di New York. Insomma, la linea, quando è una linea pulita, eccetera, è come un quadro importante. Solo che a differenza di un quadro che è magari un valore importante lo stesso, questi sono un pezzo di storia vissuta. Quando vedi quelle fotografie, non lo so, degli anni 20, 30, eccetera, vedi quelle macchine oppure qualche film. Io vado a rivedere tutti i film giornale dell'Istituto Luce. C'è una cosa bellissima, vedi queste macchine che giravano in mezzo ai tram dell'epoca, momenti che... Beh, è la storia dell'automobilismo, no? Sì, la storia dell'automobilismo inserita nella storia delle persone che tu hai in qualche modo conosciuto da piccolo. Io tornerei per un attimo, Giuseppe, alla ventre che abbiamo trattato nel primo blocco di questa puntata. un esemplare molto bello, particolare, un MK6 del 49. Perché? Perché le quotazioni di quegli esemplari, secondo me, subiscono un po' lo stesso discorso che riguarda le auto di Diana Greta. Ma per esempio, tutti si aspettano, chissà, chissà... Io ho visto vetture belle, adesso non so quanto avete pagato questa qui, perché si ha trattato Sandro sicuramente... Però, diciamo, un appassionato normale che dovesse portarsi in garage una vettura importata, mentre parliamo insieme a Rolls dell'Olimpo dell'automobile, un'auto inglese, un'auto del primo dopoguerra, un'auto importante, 30, 35... Sì, esatto. Attenzione, è un prezzo, tutto sommato, per un esempio... Ma addirittura anche più bassi. Anche meno, però poi ovviamente attenti perché metterci le mani vuol dire spendere tre volte tanto. Chi poi riesce però a metterci le mani, ecco, aiutato da persone amiche... Non è poco, secondo me, 35 mila euro per una pette di così. Secondo me è pochissimo, secondo me è pochissimo. Anche 40. Anche sì, sì, assolutamente, rispetto all'auto. Ci sono dei ligni, c'è un motore sei cilindri, c'è un interno in pelle... Ma se pensiamo che è tutto originale... È quello. Perché il mercato non premia, perché se non avevi ancora queste auto... Beh, è un'occasione per chi ha poco e portarsi una casa. Il mercato lo fa alla richiesta, è una macchina che evidentemente... Sono macchine che evidentemente solleticano meno la fantasia degli appassionati e viene ricercata un po' meno. Anche forse rispetto al numero delle auto... Cioè, 100 mila euro per una Fiat Dino... Eh, e 30 mila... Per carità, un'auto bellissima, un motore, tutto sommato Ferrari, anche se non riconosciuto ufficialmente, però 100 mila euro, 120... Anche da appassionato, io stesso mi meraviglio delle quotazioni. Mi trovo i Rolls, Bentley a 20, 25, 30, 35... Bellissime a 40, 40 mila euro. Macchine con cui, tra l'altro, puoi tranquillamente ancora andare a fare un bel weekend. E questo ovviamente appartiene all'irrazionalità del mercato. Il mercato ha le sue leggi, segue le automobili che hanno più successo, che hanno più storia... E quindi alcuni momenti storici, alcuni esemplari rimangono... Però attenzione, perché poi, nel tempo, io ricordo sempre che qualche anno fa, c'erano automobili che oggi hanno quotazioni importanti, Giuseppe, che, io dico sempre, ti ritiravano dietro. La Dino Ferrari... Infatti, non so se... È un esempio, la 246, Gallettone, insomma, una vettura... Se hai fatto caso che sono... Oggi vale 140 mila euro, così, come niente. Vent'anni fa, io ero ragazzo, mi ricordo, nei soliti giri con gli autosaloni, costava come l'alfetta che io acquistai. Cioè, se non avessi comprato l'alfetta e avessi comprato il Dino 246, oggi avrei una macchina che vale 120 mila euro. Infatti, sai quanti si sono mangiati le mani? Allora, ti guardavano piuttosto male girare col 240, era un po' l'auto, non dico del mafiosetto, ma, insomma, era una roba da borgata, possiamo dire, no? Era il Borrema, non posso, perché era un'auto prestazionale. Ferrari non aveva... Non era il mito che oggi, soprattutto... Non aveva la PIL che c'ha oggi, non c'è dubbio. Ma, infatti, per tornare al discorso che facevi tu, stanno crescendo le rubriche che ti segnalano le macchine che oggi puoi veramente acquistare a poche migliaia di euro, per le quali prevedono, in relazione al sentore che hanno del mercato, ma anche al numero di unità prodotte, eccetera, la possibilità che cresceranno di valore. Ecco, diciamole qualcuna. Beh, io ho visto... Il momento di portarsi a casa che cosa? Io ho visto delle Ford Taunus, adesso faccio un esempio. Bruttissima. Mi è venuto in mente proprio per questo. No, ma ci stanno anche delle Alfa Romeo, ci stanno diverse macchine, perché queste rubriche prendono in esame 10-20 modelli che si acquisano addirittura a 1.500 euro. Ma ti dicono, guarda, è la macchina da cominciare a pensarci. Io adesso... Se sai dove tenerla... Ho occhiato un'Arna dell'Alfa Romeo, che è uno già... L'Arna è un orrore, perché si è messo insieme il peggio dell'Alfa Romeo, che era la loro macchina. Ha detto bene lui, dal sagro al profano. Con una carrozzeria disegnata ai giapponesi, quando i giapponesi avevano un modo di fare le auto a livello stilistico, assolutamente non compatibile con il nostro gusto, e hanno fatto questo sgordo. No, ti posso nominare storicamente... L'Anglia, ti ricordi? L'Anglia. Però storicamente l'Arna è importante, perché fu il primo esempio, un primo tentativo di fare qualcosa insieme al mondo... E' riuscito male, internazionale. E quindi ha una storia, quindi un posto nella storia ce l'ha anche l'Arna, insomma. Poi io penso che vetture anche per riuscire a pensare la BMW 840, per esempio, 850, una coupé ad altissima prestazione di linea molto bella, oggi completamente dimenticata, si porta a casa a 8-9 mila euro. Sta diventando d'epoca, con tutti i benefici fiscali e assicurativi. tra qualche anno sicuramente è una vettura che può avere un proprio spazio. Che può crescere dei quotazioni. Ma ce ne sono tante altre, insomma. Mi ha dato chi c'è là quella macchina. Beh, tutte le... È un'altra battuta alla Sandro, eh? È un'altra battuta alla Sandro, perché lui c'è là. Penso che non l'abbiano neanche pagata, e l'abbiano regalata. E' un'altra battuta che tra qualche anno sicuramente avrà un posto, non sarà una vettura da quotazioni svalordative, ma sicuramente... Una linea tutt'oggi bellissima. In generale tutte le convertibili, le cabrio, sapete che poi nel tempo tendono a rivalutarsi tantissimo. Quindi ci sono delle automobili che magari, nella fascia dai 20, dai 10 ai 30 anni, diciamo, perché poi quello è il momento di massima svalutazione, poi improvvisamente cominciano a partire le quotazioni. Andare sul di prezzo, certo. Quindi si dovrebbe avere tanto denaro da investire, certo non è il momento storico. E soprattutto, ma il posto dove tenerle, eh? Il posto dove tenerle, perché il problema di... Sai quanti? C'è no, la comprerei, ma non so dove tenerla, perché... E allora, amici di Classi Garage, non ve ne siete accorti perché stavano scorrendo delle immagini proposte dalla regia, ci hanno raggiunti in studio Elda Pagnarani, benvenuta a Elda. Buongiorno. E la nostra Nicla, per questo ormai consueto inserto dedicato alla moda femminile, che ha accompagnato alcuni dei protagonisti del nostro programma, per questo binomio che sarà sicuramente gradito anche al pubblico femminile. Elda, accanto alla 509 Fiat del 1928, c'è la moda degli anni 30, gli anni che stavano arrivando. Esatto. Allora, questi anni sono degli anni, diciamo, belli, molto belli, perché sono dopo la ricostruzione della guerra, si chiamano gli anni folli, perché le persone hanno voglia di liberarsi da tutte le costrizioni, non vogliono avere più paura, e quindi fioriscono le sale da ballo, le persone ballano, le donne si emancipano, fumano. Il primo creatore di moda di quegli anni, per avere quindi uno stile, è Paul Poiret, in Francia, a Parigi, esattamente, che comincia a dare uno stile alla donna con dei tessuti molto leggeri, le ricopre di frange, i tessuti si ricoprono di paillettes, non ci sono punti vita, sfiorano i fianchi. Scusa, siamo più agli anni 30, cioè, più agli anni 20, in questo che è a fine degli anni 20? 20, diciamo 28-30. Perché poi c'è stata la grande depressione del 29, quindi poi c'è stato uno stop rispetto a questo momento di epoca. Sì, esatto. Qui siamo ancora agli anni in cui c'era ottimismo. Sì, esatto, esattamente. Si vogliono divertire, appunto, ripeto. E Coco Chanel, in Europa, da un imprinting completamente diverso, comincia a dare un'immagine alla donna più disinibita. E quindi questi tessuti sono in jersey, sono molto leggeri, in seta, e addirittura le mette i pantaloni. E quindi, di nuovo, l'emancipazione della donna. Questi confermano per la sera queste frange, il boa. E poi, per quanto riguarda l'immagine della capigliatura, capelli alla garzon, quindi questi caschetti molto corti, le onde piatte, molto aderenti alla testa. E soprattutto per il trucco, è un incarnato chiaro, lo smoke ice, e le bocche rosse assolutamente, molto piccole, si restringono le bocche, e diciamo che la donna si libera dalle costrizioni, ma rimane comunque, nel suo leggero avvicinamento alla mascolinità, rimane molto sensuale. Bene, sicuramente anni importanti, abbiamo visto la moda intorno al 1928, quindi proprio coeva di questa nostra Fiat, ricordiamo gli anni dell'ottimismo, dopo la guerra, come diceva Elda Pagliarani, non c'era stato ancora il crollo di Wall Street del 29, la crisi dei primi anni 30, quindi siamo ancora in pieno ottimismo. E direi, se siete d'accordo, con questa ventata di ottimismo, ringraziamo Elda Pagliarani, la nostra esperta di trucco, parrucco, ma naturalmente anche di moda, e chiudiamo questa puntata di Classic Garage, ringraziamo tutti i nostri ospiti, i nostri amici che ci hanno portato la loro testimonianza, le loro splendide automobili, ormai lo sapete, restate con noi, perché Classic Garage diventa proprio l'appuntamento settimanale immancabile con il mondo dell'auto classica ed epoca. Un saluto naturalmente anche da parte di Carlo Braccini. Grazie a tutti i nostri amici.